E' solo uno dei tanti casi di cittadini che sono in possesso di Super Green Pass, cioè con tre dosi di vaccino, ma che poi sono risultati positivi. E' il caso del consigliere comunale di Pulsano nel Tarantino, Angelo Dilena. Eccolo il suo Green Pass. Lo abbiamo verificato con l'app. E' ancora valido, malgrado la positività conclamata. Con questa certificazione potrebbe andare in giro a piacimento stadio, cinema, bar e ristoranti. Qualcosa non funziona. Perché il signor Dilena, come ci racconta, ha avuto sintomi da contagio Covid ai primi di gennaio ed il giorno 7 scorso ha fatto il tampone, risultando positivo. Ma il suo Green Pass è ancora valido. Sì, sì, sono positivo nonostante avessi la dose booster, quindi la terza dose. Quindi da quel momento responsabilmente mi sono messo in isolamento, mi sono chiuso a casa. Cioè responsabilmente aspetto ovviamente l'esito del tampone al decimo giorno. Se risulterò negativo, quindi se mi sono negativizzato, potrò ritornare alla mia vita quotidiana.